bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e siamo tornati qui su minecraft signori allora non abbiamo fatto niente di che? di particolare però prima di partire col video signori io ho fatto partire il gioco e ho visto che là mi è sfondato uno di quegli zombie marini che c'è un tridente in mano signori partenza col botto anche oggi proviamo subito allora aspetta un attimo facciamo una spada una spada di pietra si fammi una spada di pietra ok ci proviamo signori proviamo a ammazzarlo vediamo se magari mi trovesse droppare il tridente sarebbe tantissima roba anche se noi siamo siamo messi siamo proprio dei pazzi perché lo stiamo andando a affrontare appunto lo stiamo andando a affrontare colpiscilo colpiscilo senza un'armatura lui c'ha pure un nautilus pure in mano è morto che mi ha dato? che cazzo mi ha dato? il nautilus? lo posso pigliare? dammelo ti prego dammelo dammelo niente signori partenza col botto ma non è servito a niente e volevo il tridente non mi ha droppato il tridente male che vada ci pigliamo sto pesce dai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua pesciolino di... ok ci siamo presi pure un pesciolino quantomeno ci possiamo un attimino avere del cibo per mangiare abbiamo anche il pesciolino allora signori non ho fatto assolutamente niente rispetto al video precedente ho semplicemente stabilito che faremo qua sotto la nostra casa l'altra volta avevamo la saliti là sopra ma la sopra al massimo ci andiamo a fare il porto del nether facciamo tutta una mega scalinata da qua vediamo facciamo tutta... mettiamo tutta la lava sulla montagna qualcosa ci inventiamo di brutto e di pazzesco la nostra casa ce la faremo qui in questa piccola valle carina e simpatica il villaggio che abbiamo trovato l'altro giorno è qui quindi comunque siamo anche vicini al villaggio che io ho illuminato tutto sperando che gli zombie non ammazzino gli unici due villaggeri che ci sono e niente signor off camera ho recuperato un pochino di... di terra un pochino di legno ho sistemato qui questa cassa che abbiamo scaricato tutte le cose che non ci servono in cui andremo a scaricare anche queste mele il nautilus e queste cose di qua vedete ci abbiamo un po' di legna raccolta però voglio anche un po' di pietra quindi signori inizierò a scavare infatti ho messo in alto a sinistra le coordinate a scavare la nostra miniera fino ad arrivare a livello 11 se non sbaglio a livello 12 e la miniera l'andremo a fare qui c'è questo intro più o meno qua di miniera è inutile andare a fare altri scavi questa è una miniera che è un po' sciocca perché poi va a girare da quel lato ma noi la faremo si la facciamo di qua la miniera... no là c'è un altro coltridente signori lo affrontiamo pure signori lo affrontiamo pure un altro coltridente attenzione partenza al razzo partenza al razzo ahia ma ha colpito lui prima però dai colpiscilo 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 che mi dà il tridente colpiscilo che mi troppa il tridente siamo morti signori colpiscilo che mi ha ammazzato siamo morti praticamente signori no 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 prima morte signori per cercare di recuperare un cazzarola di tridente siamo morti subito bene bellissimo ottimo mi recuperi tutto cortesidente grazie non abbiamo nemmeno ottenuto il tridente perché quel mostriciattolo è morto e non mi ha troppato niente perfetto bello così io già speravo tridente calvo li ammazzi e invece niente da fare vedi fino a dove sono arrivate le mie cose fino a qua sotto quello è mio no è un pesce che sta pesciando bene allora recuperiamo queste ultime cose qua dietro che ci sono ancora qui quindi signori allora succo del discorso succo del discorso mi serve un po' di pietra ne voglio approfittare per recuperare un po' di pietra ne approfitto andando a farmi la caverna la miniera quindi andando a scavare e a ottenere la miniera così vediamo di ottenere anche qualche materiale e un po' più di pietra e qualche altra situazione e detto questo basta non ci fermiamo qui faccio off camera questo discorso della miniera e noi ci vediamo sempre qui sul canale nel senso un battito di ciglia e inizieremo la costruzione della casa mentre io ora mi passo un po' di tempo a scavare e a cercare materiali in fondo alla miniera a dopo ragazzi ok ragazzoli allora io ho fatto un po' di scavi c'è solamente un piccolissimo problema signori che è passata la notte e mi è spuntato un creeper qui dietro vediamo se riusciamo a ammazzarlo questa volta senza far esplodere tutto c'è un bel creeperino no 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 ok però non l'abbiamo colpito no 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 No, 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 sono cascato malissimo, sono cascato male, sono cascato male, sono cascato male, sono cascato male, no, 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 la lotta col creeper, ok, perfetto, siamo riusciti a detonare il creeper senza grossi problemi, allora, come dicevo, ho un attimino sistemato qua la situation, ho fatto la nostra bellissima, il nostro bellissimo scavo, ho trovato un po' di ferro e un po' di carbone, e vi faccio vedere, però mi sono andato a fermare con lo scavo perché abbiamo trovato una grotta immensa che là c'è un altro mostriciattolo ma che non c'ha il tridente, quindi lo lasciamo lì, scendiamo di qua signori, vi faccio un attimino vedere, poi qua la scala la andremo a sistemare tutta, anche questa fatta in maniera offline, in video, perché come ho detto dobbiamo giocare assieme con calma se escono video lunghi, anzi meglio così, siamo arrivati al livello 22 e abbiamo trovato questo signori, una mega caverna che si allarga in 8000 direzioni, c'è da perdersi praticamente, io non ho abbastanza torce per esplorare tutto, però la vedo che c'è del carbone e del materiale interessante, sarà della redstone, penso di sì, e infatti qui c'è dell'altro carbone, qui si va avanti, allora, purtroppo non ho neanche più la pala, quindi non mi posso prendere il carbone, qui si va avanti, c'è del ferro qui, no, non c'è nisba, e voglio solamente un attimino illuminare per non rischiare di trovarmi con dei mostri, qui si scende tanto, carbone e redstone, va bene, con dei mostri diciamo che mi spuntano vicino alla scala o che mi salgono praticamente dalla mia scalinata e quello sarebbe un grosso problema, decisamente un grosso problema, comunque abbiamo ricoverato un po' di pietra, che era il nostro obiettivo principale, signori, per cercare di fare una costruzione un pochino, un pochino simpatica, mettiamo una torcia lì così, illuminiamo anche lì, e un giorno di questi poi esploreremo anche questa caverna nel momento in cui saremo più organizzati e più protetti, ecco, perché per ora siamo leggermente troppo aperti al fuoco nemico, mettiamola così. Allora, per quanto riguarda la costruzione della casa, signori, non ho la più palla di idea, ci ho pensato più o meno questa settimana su come organizzarla, ma non ho ovviamente avuto idea su come farla, faremo una casettina normale, niente di particolare, sulla falsa riga di quella del villaggio, così ci teniamo così in maniera equilibrata, mettiamola così, il letto mi è finito, il letto l'ho messo qui per sbaglio, e lo lasciamo lì, signori, castruiamo la casa intorno ai tre cosi che abbiamo messo, quindi abbiamo quattro cosi qui, perfetto, quindi direi che, quindi io direi che, io direi che dobbiamo prendere intanto i materiali, sennò non possiamo fare nulla, allora, prendiamo il legno, 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 prendiamo legno, posiamo questo, posiamo questo, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi, sarà... La pietra la sto cuocendo per avere pietra normale, così vediamo anche di poter sfruttare questa pietra di qua. Allora, io direi, abbiamo tanti alberi di betulla, quindi direi, mettiamo un primo pilastro qui di betulla, facciamo una sorta di pseudo casa, allora, no, l'ho messo troppo in là, vedete, già sto sbagliando, già sto sbagliando, perché il muro mi deve girare qua attorno, quindi questo va messo, va messo qua, e non lì, e non lì, e questo è già il primo errore, perfetto, e questo l'abbiamo già capito che sarà molto sbagliata questa casa. Poi, 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 veramente noi potremmo fare l'entrata di qua, l'entrata di qua, quindi fare uno, uno, finestrella, facciamo, due, e qua ci possiamo andare a mettere quest'altro, ok, poi avanziamo di tot, ok, poi facciamo uno, due, qua ci sarà la porta, quindi facciamo due e tre, ok, di conseguenza questo lo andiamo a rimettere qui a specchio, ok, Poi, secondo me la casa può anche andare, perché noi entriamo così, entriamo così, e la casa è tutta qui, volendo, no? Sì, volendo sì, la casa sarebbe tutta qui, al massimo possiamo, gallina! Ah, al massimo possiamo fare, eh, là c'è quello, quindi il muro dovrebbe girare di qua, quindi questo lo abbiamo messo qua, ok, un altro per rispettare il disegno lo mettiamo qui, e quest'altro, infine, dovrebbe andare qui. Ecco, questo dovrebbe essere il perimetro della nostra casa, signori, in teoria, in teoria, In pratica è tutto da vedere, perché qui abbiamo due, quindi potrebbero metterci due finestrelle di qua, perfetto, qui abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, quindi fare due, due finestrelle e due, ok, qui abbiamo la finestrella centrale, finestrella centrale come da questa parte, ok, e stessa cosa qui. Poi se vogliamo fare un piano superiore, poi ce la studieremo successivamente. Io penso, penso, penso così. Quindi di qua saliamo di uno e due, ok, 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 uno e due, ma non mi basteranno mai i blocchi di betulla, di qua, di acacia, vi immaginate? Però va bene, qualcosa ci inventeremo, faremo un piccolo taglio e andremo a recuperare l'altro, perché per fortuna la legna non manca. Io ho fatto anche un po' di, di alberi, così non dovremmo avere problemi di, 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 di legname, o quantomeno. Questo è fatto, ok, e qui ci siamo. Perfetto? Perfetto. Poi, 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 poi andrei a mettere questi, li andrei a mettere a taglio. Che dite? O andiamo a taglio con quelli normali? Comunque sempre con questi di qua. Proviamo con questi di qua, aspettate però. Perché ora dobbiamo metterli a taglio e non è per niente facile. Quindi facciamo una cosa così. Facciamo, io ancora devo capire come funzionano i tasti, signori, immaginatevi voi. Immaginatevi voi che io ancora devo far funzionare bene i tasti. Ora, se io questo lo metto così, no. Non ci siamo capiti, già. Già non ci siamo capiti, questa non è una cosa per niente buona. Quindi torna giù, metti questo qui, ok, questo levalo, ok, poi salta di qua, perfetto, metti questo qua, ok, e quindi ora possiamo mettere questo così, ok. E fare due, e io là come ci arrivo, ok, fare due, fare tre, quattro, Mi devi mettere un coso di terra qui, così, in modo da che io mi posso spostare, due mi devi mettere, così, perfetto. Rialzati e fai uno, due, e tre, ok. Bella cicciosa, dai, bella, bella, bella corposa, mi piace, mi gusta, mi gusta, ok. Ok, dopodiché, dovrei che sono finiti i legni, dovrei che sono finiti i legni, ok, calma e sangue e freddo, calma e sangue e freddo, qualcosa c'è, ce la studiamo. Ehm, perfetto, poi noi dovremmo fare, noi dovremmo fare, che di qua mi va lo stesso disegno così, quindi uno, due, e tre. E ti fermi perché poi c'è la casa mia. Uno, due, tre, quattro, e cinque. Così, dai, eh, qua poi mi metti questo che esce in fuori così, questo che esce in fuori così, perfetto. Ok, stiamo un attino riuscendo a far prendere forma la casa, ma stanno a fine i legni, che cosa simpatica. No, lo sapevo che mi sbagliava, me lo metteva lì, mannaggia a te. Dai, così, recupera questo che devi dare importanza, ok, così, 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 così. Perfetto, sono fini di legni, signori, che cosa bellissima, vogliamo fare le cose in grande e poi non abbiamo i materiali per fare le cose in grande, ottimo, bello così. Ok, va bene, intanto però possiamo, 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 possiamo trasformare tutta questa legna di qua. Sì, usa tutto, perfetto, così da andare a fare la, il perimetro della casa, giusto, sì. Il perimetro lo facciamo di colore diverso, signori, sennò poi viene troppo monotono. E il tetto lo faremo ancora di colore diverso. Questo video sarà molto lungo, ma non ha importanza. C'è un moscerino che mi, che mi cammina davanti. Qui dobbiamo valutare se mette il vetro oppure no, non, non lo so di preciso. Ai, ai, questo come cazzo l'ha fatto? levati non sei un ospite ben accetto andiamo a dormire subito signori prima che qualche altro si sveglia e ci vide ammazzate pure lui perché dico non è un'ottima situation tecnico-tattica infatti questo me l'ha fatto mettere a sbagliare mannaggia lui meno male che possiamo recuperare è bello che ho fatto una intro in cui dicevo che dovevo andare a recuperare il legno per la pietra per la casa non stiamo utilizzando minimamente la legna, la pietra per la casa però va bene dettagli signori, dettagli qui ora valuteremo la situation qui possiamo andare a chiudere così perché abbiamo detto che metteremo una finestra da due quindi due li possiamo chiudere quindi così e così ok ok quindi questo lo puoi chiudere e questo lo puoi chiudere pure perfetto io mi fermerei un attimo perché se no noi rischiamo di non poter più entrare dentro casa per continuare a fare i pilastri niente qua mettiamo chiudiamo tutto signori qui si qui chiudiamo tutto perfetto ok allora facciamo veloce veloce una una di queste perfetto andiamo a recuperare un altro po' di betulla si di betulla di acacia anche la betulla ci servirebbe perché poi dobbiamo fare il tetto di il tetto lo facciamo di betulla signori il tetto lo facciamo di betulla così diamo un altro tocco alla casa un altro tocco alla casa recuperiamo questo va bene signori piccolo piccolo taglio piccolo taglio so che ho detto che dobbiamo giocare assieme e fare le cose assieme però vabbè raccogliere la legna è una gran rottura di scatole siccome me ne vorrà ce ne vorrà tanta di legna faccio un piccolo taglio veloce veloce in cui recupero un'altra botta di legna di acacia e ci vediamo poi di nuovo qua in video ok signori siamo tornati ho praticamente disboscato mezza foresta per recuperare tutti i tronchi di acacia che mi servivano siamo in questa zona di qua in cui vado ne approfitta che siamo qua che recupero anche un poco di sabbia signori che la mettiamo a cuocere sennò i vetri non li possiamo fare mai nella vita non ne prendiamo tantissime ma però non so quanto vetro realmente mi può servire più che altro perché non abbiamo tantissimo carbone quindi andare a consumare tanto carbone solo per i vetri riusciamo a prenderli sì quanto siamo? a 33 abbiamo uno stacchettino un po' meno di uno stacchettino dai quantomeno vediamo di fare un po' meno il nostro stacchettino quantomeno lasciamo la zona quantomeno che sembra fatta bene ok riusciamo che ci possiamo fermare qui ora casa nostra mi sono perso signori no là c'è un altro villaggio signori ma stiamo scherzando spettacolo dove siamo noi? noi siamo di là quindi verso il deserto c'è un altro c'è un altro villaggio lo esploreremo nel prossimo video signori il prossimo video andiamo in esplorazione al villaggio e miglioreremo anche la la scala della miniera la scala della miniera ecco già i progetti del prossimo video i progetti del prossimo video sempre che io riesco a ritrovare la strada di casa là c'è il nostro villaggio perfetto io devo seguire la montagna di ghiaccio la montagna di ghiaccio è dove c'è casa nostra perché giustamente le coordinate lì ce l'ho ma non me le sono segnate e non me le ricordo a memoria ora come ora allora siamo tornati alla nostra home alla nostra home signori allora per prima cosa mettiamo a cuocere leva questo leva questo metti la sabbia ne mettiamo metà non penso mi servì tutta questa sabbia e 4 di carbone non abbiamo più carbone noi signori mangiamo se non mangiamo moriamo e continuiamo con la costruzione della zona diciamo di con le travi ecco continuiamo con le travi così ok poi ne metti uno di qua questo 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 di qua ok questo deve uscire per forza si questo deve uscire pure io questo lo farei pure signori a noi ci sta bene che poi dentro casa comunque si vedono si vedono i pilastri mi piace la cosa e tanto ne abbiamo preso aiosa ne abbiamo preso aiosa di legno quindi diciamo che ci basta per completare il giro ok dai così dai così dai così dai così perfetto signori se non sbaglio abbiamo tutto li abbiamo messi dovunque si di qua esce qua questo mi mancava qua centrali non ne abbiamo qua ce l'abbiamo a stella qua ce l'ha di faccia qua mi manca quello in uscita perfetto qua ce l'abbiamo quello dritto per dritto no però lui cammina di qua quindi ce l'andiamo a mettere pure signori chi se ne frega ce l'abbiamo stavolta che ce l'abbiamo ci rimettiamo dai così a posto da dove posso uscire da qua stella di qua e travone di qua perfetto che poi se non sbaglio l'abbiamo anche di qua perfetto signori ok la struttura della casa è fatta non è bellissima però ci ci garba ci garba continua a mettere le porte in muri di cinta quello l'ho messo sbagliato mannaggia a te non con la zappa magari perfetto questo video durerà tanto ma ho deciso di fare ora questa tipologia di video non so quanti piaceranno non so quanti guarderanno tutto il video dall'inizio alla fine però ho deciso di fare questi video così belli lunghi in cui giochiamo assieme non taglio niente perché minecraft è bello è rilassante per questo se uno fa tutto frenetico tutto veloce solo per far vedere il qualcosa non non mi non mi aggrada noi forse abbiamo però sbagliato perché mi devo tenere un giro all'interno del mura vabbè oramai oramai è fatta signori è andata oramai è andata non ci pensiamo più oramai è andata questa è la nostra struttura della casetta mi piace mi piace mi piace così niente da fare niente da fare signori questa è la struttura della nostra casetta siamo cascati a mare ah si qua c'è un buco che dobbiamo chiudere perché st'acqua qui non serve a niente signori è semplicemente acqua potremmo lasciarlo come pozzo potremmo lasciarlo come pozzo come fonte infinita lo potremmo lasciare uno due tre quattro perfetto allora chiudi quello chiudi no con il legno mannaggia uno vuole cercare di fare le cose precise e poi fa le cagate teniamo questo di qua giusto quindi chiudi di lì chiudi di lì chiudi di lì sotto puoi chiudere no no si puoi chiudere perfetto ok 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 e ok perfetto così abbiamo il nostro bellissimo pozzo di fonte di acqua infinita non dobbiamo andare a pensare a costruircelo noi sistemiamo un attimo qui tanto no ma la palla è morta allarghiamo un attimino qui poi con calma studieremo perfetto la palla è morta precisa nel momento in cui non ci serviva più qui abbiamo il nostro pozzo infinito che poi andremo un attimino a studiare con calma andiamo a dormire abbiamo una sola torcia io intanto la metterei qui così così facciamo un po' di luce e andiamo a dormire tranquilli rapidi e indolore nessun problema ora ora signori con la pietra che noi abbiamo fatto ci andiamo a fare il pavimento perché il pavimento va fatto di pietra non lo facciamo di ancora di legno se no poi è troppo legnoso dove sta la pietra che io ho fatto eccola qua perfetto riusciamo a fare come si fanno così colloca uno colloca uno colloca uno ok quindi facciamo una botta così vediamo cosa ne viene fuori sono un totale di 36 36 non ce la facciamo mai nella vita ci sono altri 4 così rapidi randomici ok 60 penso di farcela 60 ce la dovrei fare voi direte ma perché fai questo di vuoi fare allora dobbiamo intanto crearci un'altra pala poco ma sicuro un'altra pala perfetto che però non mi devi metterla sotto perché è troppo lontana non la devi mettere qua qua questo lo metti qua questo lo metti qua e questo lo metti qua perfetto allora andiamo a spalare tutta questa terra signori perché così dai cambiamo di solito faccio solo le case magari semplici di legno e i pavimenti pure di legno tutto molto statico invece il pavimento non ne ha affatto di pietra e sapete che mi che mi ispira anche il tetto di pietra il tetto di pietra mi ispira andiamo a fare un bel tettino di pietra invece del solito pietra invece del solito tetto di legno facciamo pure di pietra il tetto e dover fare tanti gradini quello potrebbe essere un problema dover fare tanti gradini di pietra poi se sbagliamo poi devo andarla a ricuocere e devo andare a rotto di scatole intanto facciamo il pavimento dai dai così dai così occhio perfetto stiamo lasciando il buchetto sotto ma tanto non non può nascere nessuno non li riesco a metterlo no no ok ce l'abbiamo fatta un attimo di problema a mettere questo però va bene alzati alzati zio siamo a 43 devo stare attenti a piazzarli giusti perché se ne rompo uno non so se me lo ridà così sistemato o me lo dà tutto di pietra non lavorata e quella sarebbe una rottura di scatole ok chiudiamo qui chiudiamo qui chiudiamo qui chiudiamo qui chiudiamo qui perfetto sali su che bella casetta che sta venendo dai dai ci sta ci sta ecco ho perso due blocchi in maniera stupida non ho messo uno là sotto fortunata ne ho fatto qualcuno in più ok perfetto recuperiamo questo che non ho come recuperarlo perfetto dai dai di accia dai di accia recuperiamo questo facciamo la porta mettiamo i vetri distrutto completo perché la pietra non si prende così bravo la testa stupida che non sono altro andiamo a fare la porta la porta la facciamo con questi di qua così la porta classica signori ne abbiamo tre va bene non fa nulla ne abbiamo tre e le mettiamo qui perfetto ok ok e il tetto di sopra lo potremmo fare pure di pietra che dite il tetto di sopra lo potremmo fare no lo facciamo di accia il tetto sopra e lo facciamo di betulla lo facciamo di betulla dove sta la betulla mettila qua e trasformami tutto la betulla esistente al mondo no qui allora con la betulla mi fai 1,2,3,4,5,7,8,8,9,10 quanto me ne servivano facciamo le 10 dai ok 60 mi dovrebbero bastare mettiamo questo mettiamo questo e andiamo a mettere il tettuccio qua sopra signori e poi per questo video ci fermiamo qui perché già abbiamo sforato parecchio con calma oppure off camera deciderò poi successivamente decidiamo se decidiamo se fare il tetto di pietra o il tetto semplice con con la legna questo poi lo decidiamo off camera signori lo decidiamo nel prossimo video nel prossimo video ci completiamo il tetto della casa che comunque posso dire che abbiamo un tetto sulla casa e già un tetto sulla un tetto sulla testa non un tetto sulla casa un tetto sulla testa che già è tanta roba signori guardate che grazie alla nostra casetta semplice ma simpatica semplice ma simpatica qui potremmo fare una sorta di torre qua davanti vedete una torre da una cacata non lo so non lo so non lo so valutiamo assieme valutiamo assieme signori detto questo prima di lasciarci concludiamo in bellezza mettendo il vetro perché una casa senza vetro non è una vera casa posso entrare da tutte le parti mettiamo però il vetro cubico mi fa cacare sto vetro cubico così mi fa decisamente cacare sto vetro cubico maullo maullo l'abc ho fatto l'ho fatto tutto l'ho fatto tutto ho trasformato tutto il vetro in perfetto va bene in lastre praticamente va bene va bene piccola defiance non fa nulla non fa nulla signori questa l'abbiamo perso e questa la mettiamo qua ok signori detto questo ci manca la ciliegina sulla torta che è questo è qualche torcia messa a quella dopo di che questo spostalo e trasforma ho trasformato tutto il carbone che avevo in torce perfetto ci rimane l'unico buco qui che non so se effettivamente fare una scaletta che mi porta sopra dici ma che pro nessuno nessuno però potrebbe essere simpatica torce ovunque signori perché i creeper possono spuntare come funghi una torcia qui un'altra bellissima torcia qui un'altra bellissima torcia qui e qui stiamo proprio mettendo il festival delle torce signori una torcia qui una torcia qui una torcia qui e una torcia qui e una torcia qui non ce la mettiamo va bene signori detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti per il supporto la nostra casa più o meno sta crescendo e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao